Ora il prossimo pezzo nostro si intitola Lo scritto che pagamo così come uno zombie e si intitola appunto come uno zombie ho-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, ho-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Ti 꽉 stala, adesso mi chiusura, mi chiusura, mi chiusura Sto facendo e sto facendo, la bolla mi ha lasciato lei Dico sì, la mia vita, c'è 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 la mia vita Ma nessuno dice mai, la bolla non diamo, ok Ma nessuno dice mai, la bolla non diamo, ok Ma nessuno dice mai, la bolla non diamo, ok Ma nessuno dice mai, la bolla non diamo, ok Ma nessuno dice mai, la bolla non diamo, ok Grazie a tutti No vanno con me non cambiando, che c'è il cazzo del simile Il simile non dici già Grazie a tutti. Grazie a tutti.